300 delegati giunti da tutta Italia per l'Assemblea Nazionale di Azione al Teatro Politeama di Napoli. Ci sono tutti, dal leader Carlo Calenda a Maria Stella Gelmini, da Enrico Costa a Matteo Richetti. Per Calenda, l'Assemblea di Azioni a Napoli rappresenta l'occasione per sancire l'accordo di federazione con Italia Viva e lanciare l'ex forzista Mara Carfagna come presidente del partito. Molti gli strali lanciati sia al governo Meloni, a partire dalla legge di bilancio, che al Partito Democratico, e forte la preoccupazione per il disegno di legge e sull'autonomia differenziata. C'è un lavoro da fare per recuperare rappresentanza a chi pensa che il Sud non è condannato all'assistenzialismo e che invece può emanciparsi, avere industrie, avere servizi, avere istruzione, sanità. Ecco, questa è la cosa importante, è la nostra priorità per i prossimi mesi. Io sono molto preoccupato del progetto dell'autonomia di Calderoli, sono molto contento che la Meloni abbia fermato tutto, perché ci vuole una riflessione fatta bene. Ed è un fatto importante riattrarre al centro alcune prerogative, per esempio le infrastrutture energetiche e ambientali. Parla di autonomia differenziata anche Martuscello di Forza Italia, che intanto, dopo l'ennesimo contraccolpo ricevuto con l'addio di Stefano Caldoro, rilancia l'unità del partito e ribadisce la centralità del Sud nell'agenda di governo. È l'unico partito che ha davvero a cuore gli interessi della Campania e dell'Italia meridionale, la ragione per la quale oggi presentiamo una serie di proposte per creare sviluppo, occupazione, per impedire che i tanti giovani vadano al nord. E soprattutto denunciamo il grandissimo malessere che c'è nella città di Napoli, una città totalmente abbandonata. Questo davvero, Manfredi, è il peggior sindaco che Napoli abbia mai avuto. Manfredi, è il peggior è il peggior.